A poco più di due mesi dall'annuncio di Matteo Ricci agli stati generali di Midterm, l'ipotesi dell'arretramento della ferrovia a Pesaro si veste di ulteriore concretezza. È lo stesso filo diretto costruito fra Matteo Ricci e il ministro delle infrastrutture Giovannini a indurre il primo cittadino pesarese a sbilanciarsi sul fatto che il progetto dell'arretramento della ferrovia di Pesaro rientrerebbe fra le ripartizioni previste dallo stanziamento di 5 miliardi della legge di bilancio per il potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Bari. Nei giorni scorsi lo stesso ministro Giovannini ha incontrato i presidenti delle regioni coinvolte Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia e domani l'argomento sarà all'ordine del giorno di un incontro fra il comune e la stessa regione Marche. Serpeggia forte ottimismo verso l'ufficialità di un progetto che pare sempre più realizzabile. Un progetto di fattibilità che il comune di Pesaro presentò di concerto con RFI includendo anche Fano nella partita. L'idea è quella di sgomberare la tratta ferroviaria ridosso del mare trasformando i binari pesaresi in passante verde. Contestualmente la ferrovia verrebbe fatta correre parallela al tratto autostradale riuscendo a implementare l'alta velocità anche nel tratto pesarese fin qui rallentato dalla serpentina che allo stato attuale si crea fra Pesaro e Gradara. In caso di realizzazione del progetto la stazione ferroviaria verrebbe collocata in una zona geograficamente ubicata fra Villa San Martino, Villa Fastigi e Strada dei Cacciatori. A giorni si attende l'ufficialità del progetto.